Siamo in tutto il mondo, comprena il Giappone e la Cina, gli Stati Medici. L'Italia è un mercato piccolo per noi, perché non ci sono i grandi produttori di sistemi medicali in Italia. Vediamo tutti i maggiori produttori di sistemi del mondo medicale. Sono market leader mondiale per quanto riguarda il medical imaging e siamo anche naturalmente, voglio dire, leader tecnologi in questo senso.